ciao amiche ed amici benvenuti sul mio canale youtube prima di iniziare questo nuovo video voglio invitarvi ad iscrivervi al canale e da cliccare sulla campanella se ancora non l'avete fatto seguiamo insieme adesso questo nuovo video ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube allora sto preparando un prefermento chiamiamolo così con 100 grammi di farina poi ho messo 50 grammi di licoli e adesso metterò la parte di acqua preparato 100 grammi però alla fine ne ho messo 80 80 grammi di acqua le dosi le trovate in descrizione impasto così grossolanamente con una forchetta per formare una pastella poi metterò questo impasto dentro un altro recipiente pulito e lo copro lo peso si mi regolò per le dosi per darvi le dosi giuste e una volta coperto lo lascio io lo sto preparando la sera sul tardi sono le 11 quindi lo lascio fino a domani mattina a temperatura ambiente calcolate che non fa non caldo quindi quando sapete com'è con i tempi con i tempi regolativi sempre con la temperatura e la stagione e questo eccolo qua vedete è la mattina dopo avete visto è bello lievitato e quindi qui procedo per l'impasto vero e proprio quindi ho mescolato la farina le due farine e procedo con l'acqua per mettere in autolisi una trentina di minuti la farina quindi bagno per benino vedete ho messo quasi tutta l'acqua poi se serve metterò un altro cucino la semola assorbe molta acqua quindi mi regolo ecco qua sembra la farina abbastanza bagnata adesso copro e lascio l'acqua in autolisi 30 minuti ok va stato il tempo ci metto il prefermento tutto il prefermento che erano all'incirca 200 grammi a metto ancora l'acqua il resto dell'acqua e giro allora qui se volete continuare ad impastare a mano continuate con il cucchiaio poi mettete ancora altra acqua poi mettiamo il sale però io adesso vi faccio vedere così un pezzettino ma farò un passaggio in planetaria quindi vado a mettere tutto nella mia planetaria e faccio girare una diecina di minuti ecco qua bene faccio girare un pochino velocità media e poi verso l'impasto nella ciotola dove ho messo un po un goccio di olio e adesso direttamente in ciotola farò per tre volte dei giri di pieghe con all'incirca 20 minuti tra uno tra un giro e l'altro copro e poi li faccio i giri di pieghe dopo questi questi passaggi copro l'impasto e lo lascio a temperatura ambiente per altre diciamo all'incirca quattro ore perché dico all'incirca lo sapete già perché dipende molto dalla temperatura che avete in casa dalla stagione in cui stiamo facendo l'impasto e quindi sono ci sono molte variabili quindi non prendete alla lettera quello che dico i tempi che vi do ok questo è l'impasto lievitato che adesso verso sul piano di lavoro infarinato eccolo qua vedete com'è bello adesso senza toccarlo più di tanto lo piego così li do tipo una preforma ecco qua loro tondo un pochino e lo lascio lo faccio rilassare una trentina di minuti metto un po di semola così non si attacca lo lascio direttamente qui sul piano di lavoro e lo copro lo copro con un telo e lo lascio una trentina di minuti bene passato il tempo eccolo qua vedete si è adagiato allora adesso voglio fare questo diciamo torciglione non chiuso come la ciambella infatti sul canale trovate trovate altri due video credo ci siano uno l'abbiamo fatto anche con il gruppo nuvola e di una ciambella ritorta qui farò proprio un filone ritorto diciamo quindi piego così piano piano chiudo ecco qua anche per cambiare un pochino per non fare le stesse cose ecco sapete che sul canale ci sono quasi 200 video credo perso il conto quindi sono tanti alle volte insomma ripetiamo anche le ricette magari cambiando cambiando qualcosa pressa poco il pane procedimento è quello allora chiuso per benino mo di filone e adesso giro così è molto morbido l'impasto quindi piano piano giro da una parte poi dall'altra ecco faccio questa torsione e poi invece di chiudere la ciambella lo lascio aperto a modi ferro di cavallo diciamo va così magari ci porta anche un po di fortuna lo metto su un telo perché sulla carta visto che morbido ho paura che si appiccichi si appiccichi quindi qui ci metto la semola e lo lascio così lo lascio lievitare ancora vediamo 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 come come aumenta di volume che so un'ora due ore anche vediamo quindi lo copro chiamo ancora la semola non ci vorrà molto per la seconda lievitazione e lo copro così direttamente con lo stesso telo lo stringo un pochino così non si allarga più di tanto ecco qua e lo lascio ok allora eccolo qua adesso è difficile girarlo provo così lo metto sul braccio però questo punto lo capovolto forse se lo mettiamo dallo stesso lato sarebbe meglio non è molto semplice perché non è curvo naturalmente un po difficile poi qui sulla pala che è un pochettino più stretta adesso lo aggiusto un pochino al centro è venuto un pochino più cicciotto ma non importa prendo lo giusto un po e gli do questa forma a ferro di cavallo il forno l'ho già acceso a 250 250 gradi poi darò i due spruzzi di vapore come al solito e adesso proprio sulle strisce dove abbiamo torto torto girato il filone ci faccio dei tagli sulle strisce che si vedono quindi qualche taglio così bene ok vediamo che cosa ne esce fuori vado ad infornare subito spruzzo subito il vapore vapore automatico voi se non avete il forno a vapore fatelo con la bacinella o con uno spruzzino ok in cottura bene vedete sta aumentando di volume si è anche aggiustato crescendo cuocendo guardate com'è bello ha un buon profumo buonissimo la semola rilascia sempre questo buon profumo lo faccio raffreddare un pochino anche se viene voglia di subito di spezzarlo di mangiarlo caldo però aspettiamo un pochino diciamo che un ferro di cavallo un pane torto sentiamo la croccantezza allora tagliamo così beh io direi che è bello eh la semola non fa gli alveoli grandissimi rimane un po morbida però va bene così io direi che è perfetto perfetto e molto molto buono bene amici se il video vi è piaciuto lasciate un like cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei video e che dire spero di risentirci presto per un altro video ciao a tutti ciao a tutti